la azione eccoci tornati buongiorno buongiorno a tutti siamo qua con la seconda puntata di biblio boom ci metto la faccia questa nuova bestia oramai sapete tutto non non ci dilunghiamo in spiegazioni perché abbiamo cambiato noi se avete seguito la prima puntata quindi se non l'avete fatto fatelo e scoprirete tutte le novità di quest'anno in questo biblio boom ci metto la faccia buongiorno caro francesco buongiorno buongiorno ben ritrovato anche perché oramai siamo ospiti su diverse piattaforme siamo sulla naturalmente la piattaforma principale che è la radio sesto network e dove lì potete trovare anche le nostre trasmissioni radio degli anni precedenti oggi ci ospita come podcast ci metto la faccia poi siamo sulla nostra pagina facebook della biblioteca di sesto san giovanni e poi siamo anche sul sito del consorzio csb no anche lì voi andate trovate ci trovate insomma nel senso che abbiamo abbiamo iniziato e soprattutto con la piatta folle piattaforme e ci siamo ci siamo e adesso come andiamo spandendo stiamo arrivando state attenti come è andato questo periodo bene dai frasi diciamo che vediamo vediamo un po la luce in fondo al tunnel pare che che stia andando un po meglio quindi non diciamolo troppo troppo ad alta voce che come come dicevo anche l'altra volta poi porta porta un po sfortuna quindi viviamo alla giornata per adesso meglio e e poi vabbè quando c'è biblioboom va sempre va sempre è tutto più bello ma soprattutto la cosa che mi inizia a piacere veramente perché ci stiamo sedendo e poi l'ospite che verrà fa un po ne parliamo anche con lei ci stiamo finalmente sedendo intorno a quei tavoli che ci danno la possibilità di progettare il futuro delle attività culturali delle biblioteche perciò questa cosa qua mi piace veramente veramente tanto adesso fra prima di fare entrare nella nostra stanza virtuale il nostro il nostro vip volevo ci prendiamo due minuti per parlare un po di che cosa è stato fatto di veramente importante in questa in quest'ultima settimana della biblioteca io rispetto alla prima puntata ti vedo boh non lo so intanto sei andato dal parrucchiere ti sei fatto più bello che poi i parrucchiere non erano chiusi io vorrei sapere come la cosa che ho fatto ma c'è un motivo secondo me perché tu sei sei fatto ti sei fatto perché oramai intervisti vip eh com'è intervistare i vip dai raccontaci mamma mia vip vip non c'è sì lui è anche la genisi nel senso che insieme a raffaella forigliano della biblioteca centrale abbiamo intervistato gabriella genisi e maurizio de giovanni in due in momenti diversi maurizio de giovanni è arrivato nella giornata del libro il ventitré di di aprile ventitré di aprile è stato bello è stato bello perché comunque una persona con tanta competenza a livello di letteratura è una persona con tanta fantasia una persona che attraverso la sua i suoi libri suo modo di fare di scrivere ti porta dentro eh una città che è meravigliosa che è la città di di Napoli perciò è stato veramente bello no lo diciamo che l'intervista è ancora possibile bravo poterla vedere pubblicare proprio questa cosa sulla pagina facebook della 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 nostra biblioteca assolutamente potete andare a riascoltarla perché eh io lo 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 ascoltate ci sono veramente tanti tanti spunti interessanti non si parla solamente del del suo ultimo libro ma ci racconta tanti aneddoti tante cose di Napoli un aspetto poi ti lascio la parola un aspetto che mi ha molto colpito è come nascono i suoi personaggi lui sono persone comuni che vede in giro per Napoli e nell'intervista dice che lui quando vede una persona particolare vede già il personaggio che sarà poi nel suo libro quindi davvero eh andate andate a riascoltare questa questa intervista che potete anche trovare eh eh facebook della nostra biblioteca oppure sul portale del comune di Sesto San Giovanni nella pagina youtube del comune eh no De Giovanni è meraviglioso nel senso che ehm beh giallista bello ma quando racconta dei suoi personaggi quando racconta attraverso i suoi libri della città dei posti veramente ti fa viaggiare ti fa camminare in quei vicoli ti fa eh ti fa passeggiare insieme al personaggio ci sono dei personaggi bellissimi nel senso che poi hm per preparare un'intervista di di questo tipo con Raffaella vabbè Raffaella era già appassionata lo conosceva lo leggeva io invece mi sono io che mi occupo un po' di eh letteratura per ragazzi perciò di Giovanni è arrivato ho letto un libro ma poi mi sono dovuto preparare e allora sono entrato e sono diventati miei amici intimi alcuni dei suoi personaggi per esempio nei bastanti lo preferito qual è dai Pisanelli si chiama Giorgio Pisanelli è un un anziano poliziotto che eh sta per andare in pensione immagino ed è un grande un grande eh personaggio che accompagna i personaggi principali della storia poi devo dire che anche il buon Loiacono Palma ma poi sono stato affascinato dalle i dai personaggi a femminile dalla eh Ottavia che era un'altra poliziotta oppure dalle ragazze del commissario Ricciardi bello il gambrinus questa Napoli che viene raccontata in maniera delicata in maniera bello 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 veramente è stata una bella esperienza e vi consigliamo sì adesso lo lo promuoviamo lo lo facciamo approfitto di questa questo momento per dire ragazzi andate a vedere dell'intervista non perché l'abbiamo fatta io la o Raffaella perché proprio dietro i libri c'è sempre un pensiero c'è sempre un personaggio che ti può accompagnare io per esempio ho degli dei nuovi amici e sono all'interno di queste storie perciò andate andate vedete ascoltate perché è veramente una bella intervista sì assolutamente ne vale ne vale la pena ci eravamo preparati per altre domande altre due o tre curiosità su De Giovanni ma siamo già in straritardo quindi fra direi appunto di invitare i nostri amici ascoltatori ad andare a vedere questa intervista tua e di Raffaella a De Giovanni e passerei da da un personaggio famoso a a un altro io farei entrare così senza neanche annunciarla nella nostra stanza vai allora punto uno so che mi pentirò di questo ci metto la faccia perché tra i capelli in generale questi video dei pc sono veramente orrendi però vabbè nasconde tutto il mistero della rally vabbè comunque fa niente insomma sono contenta di essere di essere qui a parlare di un libro come come il mio solito vabbè io sono Anna però infatti sono l'inizio di presentazione Anna Enrini la bibliotecaria ma anche esperta in diciamo la nostra esperta di letture libri conduttrici di gruppi di lettura insomma non è l'ultima arrivata ecco perché ogni volta che Anna arriva a Biblioboom ci lascia senza fiato oggi però Elios vuoi dire due robe o partiamo volevo intanto anch'io salutare salutare Anna una affezionata di Biblioboom i suoi libri l'anno scorso andavano a ruba ed è vero erano i più richiesti me li chiedevano l'ho già detto ma lo ripeto e io che dire fra cominciamo a farci raccontare un po da da Anna però sapevo che tu volevi chiederle una piccola curiosità prima quindi lascio iniziare te quando ho pensato ad Anna ho pensato a quella meravigliosa letteratura inglese quella delicatezza nel racconto e allora mi aspettavo un libro eh alla Anna e però oggi mi ha spiazzato mi ha spiazzato perché il libro è tutt'altra cosa ed è la mia prima domanda come sì infatti spiazzatissimo anche perché lì diciamo che poi eh mi è venuto fuori una serie di anche domande che poi ti farò perché io ho letto eh ho iniziato a leggerlo ma mi sono informato con degli abstract con delle con delle cose che ho visto online ma come fai a scegliere i libri Anna visto che passi dalla letteratura inglese a libri che sono strumenti questo qua è uno strumento ma ne parliamo dopo ma allora eh va bene innanzitutto diciamo questo libro si chiama Otto Secondi e una autrice si chiama Lisa Iotti e parla del eh delle nostre diciamo della nostra relazione con i device in particolare gli smartphone poi ne parliamo meglio come lo certo questo in particolare se te lo devo dire non me lo ricordo nel senso che io a volte mh utilizzo anche dei siti di presentazione di libri eh tipo ce n'è uno che si chiama Qlibri però non vorrei fare torto agli altri e questo è quello che adesso mi viene in mente e mi ricordo che questo libro mi aveva appassionato come come argomento e poi andato a cercarmelo nel nostro catalogo quindi questa quella volta sono partita da là però altre volte semplicemente guardo le copertine o i titoli che mi interessano che attirano la mia attenzione e poi leggendo eh l'abstract decido se se prenderli o no non solo la copertina però solo la copertina eh deve essere diciamo supportata la copertina da un un retro una quarta di copertina interessante io Anna prima di di iniziare l'intervista vera e propria volevo intanto ringraziarti per per l'angoscia che mi ha che 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 è venuta per per questo libro mi ha messo addosso un'ansia super interessantissimo troppo interessante intanto io partirei dal dal titolo otto secondi perché otto secondi e da qua si capisce il mio il mio intro allora diciamo appunto il discorso di questo libro il sottotitolo è viaggio nell'era della distrazione e spiega un po come l'utilizzo degli dei device sia molto diverso l'utilizzo dei canali comunicativi e informativi che usavamo che usiamo ancora ma che prima usavamo prevalentemente che sono la carta il televisore e la carta libri e giornali e il televisore e eh le conseguenze che hanno sul nostra capacità di attenzione e sul nostro cervello purtroppo perché fosse solo la capacità di attenzione forse sarebbe il meno otto secondi ehm è il tempo che secondo una ricerca di microsoft canada nel 2013 è il tempo di app della durata della nostra attenzione nel 2013 quindi adesso dovrebbe essere anche un po' peggio è stata un una dichiarazione molto forte molto contestata ovviamente a suo tempo di cui si è parlato molto eh però molto simile e raccontata nel libro è un'altra esperienza che è stata fatta eh sulla capacità di concentrazione mentre lavoriamo cioè noi siamo sul nostro pc del lavoro e abbiamo accanto il nostro cellulare eh l'attenzione al pc del lavoro la dedichiamo per 40 secondi dopo 40 secondi guardiamo se non c'è una notifica sul cellulare se non c'hanno chiamato se non c'è qualche cosa che ci ci interessa sul cellulare questo cosa vuol dire che ogni volta il compito che noi stiamo facendo per l'ufficio deve ricominciare da zero o quasi perché io devo ricapire quello che stavo facendo eh perché eh una cosa interessantissima che dice e lo dico anche se sono una donna e quindi ufficialmente il multitasking è detenuto dalle donne da che mondo è una leggenda una leggenda metropolitana adesso direi che anche te lo dico solo te lo lo ammetto io stesso la leggenda metropolitana perché non è vero che il cervello può fare due cose contemporaneamente può solo switchare molto velocemente ma switchare a un costo un costo di energia un costo di capacità di comprensione un costo sul cui che diminuisce di 10 punti quando facciamo questo multitasking eh e quindi ovviamente non solo lavoriamo meno bene ma eh eh come si dice compromettiamo un po' tutto quello che è il nostro cervello mi tocca andare avanti perché eh il cervello è eh plastico si può modificare eh come un muscolo si allena a seconda delle eh parti del cervello che tu utilizzi di più eh quindi ad esempio i eh tassisti di Londra erano molto famosi perché imparavano a memoria lampa di Londra che è una roba delirante e quindi avevano sviluppato di più eh la parte sulla geolocalizzazione del nostro cervello eh quindi il cervello si allena e si modifica in base all'allenamento il multitasking e il continuo cambiare eh spostare l'attenzione su cose diverse che da una parte al cervello piace perché gli spara una botta di dopamina è come prendere un una droghettina quindi il cervello è per il tempo dall'altra parte però eh non utilizza altre funzioni in particolare la funzione in cui si consolida la memoria e qui passo avanti noi cioè bisogna a volte star lì a a far nulla e a pensare al nulla quando guardi poi dalla finestra quando sei lì così che vaghi e sei decidendo cosa metterti la mattina eh questi momenti non sono momenti di office sono momenti in cui il cervello consolida la memoria non tanto nel senso della memoria nozionistica non non mi ricordo non è che mi ricordo meglio le date della guerra d'Inghilterra ma consolido quello che poi formerà le mie opinioni e il mio libro arbitrio consolido la mia identità in questi momenti oltre al sonno ma anche in questi momenti di veglia assente diciamo che ci sembrano assente in realtà il cervello lavora a tutta forza e quindi se noi togliamo questa parte noi non abbiamo più questa capacità di avere un background nel cervello di informazioni che ci permettono di prendere delle decisioni a ragion veduta come si diceva queste nozioni proprio eh la capacità cioè tu ti fai un archivietto in cui poi quando ti prende una decisione il cervello ha delle basi solide di cose che tu conosci sulle quali puoi valutare tutto questo meccanismo è velocissimo quindi ci ho messo più a raccontartelo che il cervello a farlo se tu invece questa parte della memoria non la non la sviluppi le decisioni le prendi tutte di pancia istintivamente cioè mi piace questo sì no ma non ho dietro che poi mi piace questo se una maglietta anche se la scelta così un po random va bene lo stesso ma se è una decisione più importante lavorativa una scelta della vita del sociale tutte queste cose chiaramente questa modalità non perde delle cose considerate un'altra cosa che usare molto il cellulare ci fa fare molte piccole decisioni tipo vado su questo lingue su quest'altro metto il like o non lo metto siccome il cervello ha un tot di decisioni fatte bene al giorno perché noi siamo super evoluti tecnologicamente ma il cervello è quello dell'homo sapiens di quanti anni fa perché faccio brutta figura ma è sempre quello una volta chiuso rito le mie dico una numero a casaccio 100 decisioni prese bene del giorno facendo i like queste cose qua quando devo fare una scelta se poi c'è una scelta importante quella giornata lì io le osaurite e quindi anche questa è una cosa che a me ha colpito molto in questo libro però parlato no 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 starei starei ad ascoltarti perché a me quello che quando parlavo prima del discorso dell'ansia quando mi sono preparato un po su su questa intervista era legata a perché noi possiamo dire tu cioè tutti lo diciamo ma no non è vero io il cellulare sì ce l'ho ma non è che non lo guardo quando in realtà poi leggendo questo questo libro ti rendi conto che invece tantissimi comportamenti tantissime gesti che ormai sono quotidiani ti influenzano ti influenzano tantissimo a me l'esempio che se vai a cena a cena fuori no perché ormai non si va più a cena fuori comunque se si mangia con qualcuno se sei seduto al tavolo con qualcuno a mangiare o chiacchierare solo il semplice gesto di mettere il telefono sul tavolo vuol dire tantissimo perché tu stai dicendo all'altro che cosa che se comunque tu o che stai parlando con questa persona ma nel momento in cui ti si accende la lucina blu della notifica del cellulare sei pronto a guardare tutto e a guardare il cellulare corre l'occhio e l'occhio corre l'attenzione l'attenzione su quello che si fa e che si sta facendo che che viene molto meno da qua il discorso degli otto secondi una cosa preoccupante Anna è quando dici che la nostra attenzione è inferiore a quello di un pesce rosso i pesciolini rosso lo sappiamo che si dimenticano della loro vita cioè il cervello si resetta ogni quattro secondi perciò vivono in una boccia perché è come se fosse sempre il primo momento questa è una roba veramente secondo me che mi mette nello stesso stato d'ansia di Elias cioè nel senso che dobbiamo iniziare a darci delle regole io non so voi come la pensate ma lo stato d'ansia è giusto nel senso che non tanto per quello che ci siamo detti ma perché aspettare avere una notifica non letta crea nel cervello uno stato di ansia che corrisponde un po' a quello di quando nel nel giurano nella preistoria succedeva quando si vedeva l'orma di un predatore si innesca una reazione che si chiama colpisce o fuggi una roba del genere per cui tu però devi sei chiamato a fare qualcosa e quindi questa cosa se tu hai otto dieci notifiche al minuto che fa pipi pipi cellulare ogni volta scatta nel cervello questo meccanismo che è anche faticoso proprio fisicamente niente da dire perché tu sei sempre sul chi va là ma poi con la storia che aderisci a gruppi social insomma tutte queste cose qua entri in una secondo me anche il cervello adesso magari la dico per come la penso il cervello entra in questa statistica che dice io come mai non mi sta arrivando nessuna notifica perciò anche quando non senti il bibito corri dice mo che è successo non funziona allora inizia a cercare la reazione insomma io da questo libro mi rendo conto di azioni che oramai stavano diventando quasi innate cioè che tu fai di default senza però adesso inizio a pensarci perciò di questo ti ringrazio io ammetto Anna che quando abbiamo preparato questo libro qua la prima sera ho messo il cellulare in un cassetto giuro l'ho fatto ho messo il cellulare nel cassetto per tre ore tre quattro ore ho detto non devo assolutamente ce l'ho fatta comunque se allora in tutte io ho letto questo libro poi ho guardato qualche video tutti i grandi amministratori delegati perché lo diciamo in italiano delle aziende google amazon eccetera i loro figli fino a un totale ai loro figli non fanno toccare un smartphone o un tablet perché sono consci di questo pericolo che pericolo cioè è l'utilizzo sbagliato cioè come al solito ogni strumento ha usato se ho la macchina l'uso per andare a passeggio bene se la uso per investire le vecchiette sulle strisce pedonali male però è molto difficile usare bene il cellulare perché dà dei dei feedback al cervello il cervello ha dei feedback positivi e quindi è più difficile chiaramente che non investire le vecchiette che mi viene un po' più spontaneo diciamo ma Anna scusa una domanda ma dai educatori io adesso educatore figli comunque consigli bisogna darsi delle regole io la vedo così nel senso che quelle quattro ore di Helios che si è messo nel cassetto il telefonino dovrebbero essere sempre per un determinato momento la cena un film insieme il subito quando finisco il lavoro perché rimanere sempre connessi è un problema anche perché siamo noi poi gli esempi per le nuove generazioni e quindi possiamo stare a raccontarcelo finché vogliamo ma se siamo noi i primi poi a ad avere certe abitudini cosa vai a dirgli a sti ragazzi cioè perdi facile al contrario vuoi vincere facile qua vuoi perdere facile e comunque diciamo io poi ho detto quello che ho capito che ho percepito da questo libro che secondo me è molto interessante l'unica cosa forse avrei messo l'unica cosa che manca in questo libro è un po' una cosa bibliotecaria un indice alla fine con i riferimenti con magari qualche libro perché alcuni di questi personaggi che lei contatta perché lei parla di persone con moltissimi scienziati e moltissime persone riguarda queste cose non è che se le inventa ovviamente l'unica cosa però è molto una cosa bibliotecaria quindi no vabbè perché è un libro che è anche molto bello da leggere nel senso che anche perché lei parte con l'otica di dire io sì sono assolutamente una tossica di smartphone quindi lei si riconosce in moltissime cose un po' si preoccupa come hai fatto tu Elios però so comunque è molto a me è piaciuto molto interessante prendere coscienza già che c'è un problema secondo me è un primo è un primo passo non nascondersi dietro chiaramente noi di questi strumenti non è che possiamo fare a meno cioè il problema è proprio capire come utilizzarli bene perché a meno sarebbe impensabile sarebbe anche da folli la domanda va a tutte e due a Elios e ad Anna prima ad Anna e poi ad Elios naturalmente ma siamo un po' più soli con questi strumenti secondo voi una generazione beh noi possiamo dare una risposta visto che non siamo nativi e siamo nati senza con il telefono che bisognava utilizzare la rotellina ma siamo un po' più soli solo non lo so diciamo che ci vuole una volta ci doveva mettere più impegno per vedere le persone e stare insieme considerando che telefonavi sul telefono fisso e rispondeva il babbo e la mamma di questa persona a cui tu volevi parlare quindi orribile avevamo in questa situazione attuale come questa situazione noi senza questi strumenti saremmo morti ma morti di solitudine quindi io non voglio fare assolutamente non voglio che sembri la di essere l'appassionario anti smartphone io ho scaricato whatsapp lo metto solo con lockdown per poter parlare in video con lo sappiamo lo sappiamo con amici con amici e parenti quindi questi strumenti in questo periodo ci hanno salvato salvato la vita anche sociale perché ovviamente però bisogna fare attenzione cioè bisogna usarli come uno strumento utile non non come altro quindi però non ho un consiglio anche perché sono come ho dichiarato adesso sono poco tecnologica non usavo e quindi di chi ce le dà un consiglio comunque fra per me sì un po' più soli siamo a me viene un esempio semplice viaggi in treno di 5-6 ore una volta cioè per forza di cose facevi le chiacchierate con il tuo vicino di posto con quello di fronte perché se no non ti passavano più queste 6 ore adesso boh vai in treno in metropolitana sono gente che parla ce n'è veramente veramente poca quindi per me la risposta un pochino un pochino sì adesso vabbè ho fatto un esempio semplice però no 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 ma è vero anche il viaggio di un quarto d'ora in metropolitana uscivi magari che andava a bere il caffè con una persona che vedevi lì ci incontriamo sempre andiamo adesso niente smartphone cuffiette musica insomma siamo tartassati da questa lucina blu come la chiama Anna nella sua descrizione che sono che ci veramente ci stanno offuscando anch'io sono dell'avviso che siamo un po' più soli anche se gli strumenti sono social nel senso che tendenzialmente portano ad essere più vicina ad altri anche se si è da soli in una camerina in una stanza sono dell'avviso che bisogna tornare e vietare al ristorante soprattutto la sera l'utilizzo degli sbagli in questo ristorante non bisogna portare smartphone o tablet dove io a me è capitato di vedere sia i bambini lì che i bambini erano il piacere dei ristoranti che disturbavano quando cenavi invece adesso hanno il televisore tablet da 32 pollici hanno il mondo lì davanti perciò lì tranquilli torniamo un po' alla se poi ci vogliamo isolare in metropolitana leggiamo un bel libro assolutamente brava 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 ma poi in metropolitana quando viaggiavo perché quando viaggiavo e prendevo la metropolitana ma poi tu ti avvicinavi capivi che libro leggeva ti avvicinavi guardavi allora il signore ti guardava e dice ma scusi ha bisogno di qualcosa no di che scusi bibliotecario e allora lì partiva un embolo pazzesco è bello è bello è bello 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 informazione professionale questa siamo arrivati quasi alla fine io leggerei una frase che mi era appuntato del libro che ha proposto Anna e che di questo libro l'argomento principale è il discorso legato all'attenzione otto secondi proprio si riferisce all'attenzione e questa frase dice l'attenzione è la forma più pura è rara della generosità e la finisco la finisco così no nel senso che dobbiamo dobbiamo porre anche un po' di più attenzione nel verso verso le altre persone in questo senso la generosità nel porre attenzione anche verso verso gli altri non verso solo noi stessi immersi in uno schermo piccolo grande che sia era un po' questo quello che che mi aveva però un bibliotecario all'Anna faccio una bibliotecaria all'Anna l'altra risposta è anche nei libri trovi tanta generosità perciò più che Anna è meno pixel sì nel senso che anche l'attenzione del libro il peso il volume l'impegno di andare a prenderlo è un impegno secondo me di grande generosità per te stesso perché lì ti prendi dei minuti dei momenti per te stesso perciò noi naturalmente cadiamo in questo punto che è andare in biblioteca prendere il libro però è la cosa più bella che possa accadere va bene Anna voi abbiamo sono andata in libreria quindi sono già nell'ottica del prossimo ah ok del prossimo libro ma torniamo ai posti meravigliosi alle campagne fantastiche alla brugliera inglese oppure non lo so ancora devo decidere va bene va bene a me questo questo libro qua che ha portato Anna mi è piaciuto a parte la battuta dell'ansia mi è piaciuto un sacco no è bello ma è bello perché sono d'accordo con te Elios è bello perché ci fa aprire gli occhi piccoli gesti che ci fanno comunque prendere cosciente consapevoli e coscienti di quello che stiamo facendo poi l'abbiamo detto tutti e tre non se ne può fare più a meno perché la mail tutto qua però alle otto di sera spegniamolo e riaccendiamolo alle otto del mattino l'ho provato sono riuscito a spegnere alle otto e a riaccenderlo alle sette non ancora alle otto però va bene ce la sto mettendo tutta è un passo in avanti è un passo in avanti fra allora io siamo salutiamo Anna salutiamo Anna però prima di salutare Anna noi le puntate di Biblioboom ci metto la faccia le finiamo sempre adesso per adesso diciamo con un modo simpatico e divertente quindi Anna se io ti dico ho una voglia assurda di tu come me la finisci la frase allora a guardarmi e andare dal parrucchiere va bene va bene tu andare in Toscana andare in Toscana un posto strepitoso dove siamo andati diversi anni vicino Siena natura cultura quello quella la cosa più forte colline sole vento pici e pici e pici è vero è vero e tu una voglia assurda Elios io beh io mi riaggancio anch'io un po' a quello che dice che dice Anna di fare qualche giro di andare da qualche parte e io poi avevo detto di nei vari audio che vanno in fondo alle nostre puntate che avevo una voglia assurda di rivedere i nonni fuori dalle scuole anche questo i nonni assieme ai nipoti sì questo è bello mi piace bello bello allora la chiudiamo così insieme ad Anna dai la chiudiamo così Anna grazie come al solito hai stimolato anche la nostra coscienza al di là della conoscenza attraverso questo bellissimo libro e ti aspettiamo lo sai che biblio boom senza Anna è biblio boom senza Anna ciao Anna grazie mille salutiamo salutiamo tutti fra che dici ciao ciao a tutti ciao ciao ci metto la faccia biblio boom ci metto la faccia vi aspettiamo per la prossima ciao 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 ho una voglia assurda di andare sullo skate ho una voglia assurda di passare una giornata spensierata ho una voglia assurda di andare a sciare in montagna ho una voglia assurda di prenotarmi un viaggio ho una voglia assurda di vedere i nonni che vanno a prendere i bambini fuori da scuola con le merende i bambini fuori da scuola